Hai permesso al primo fesso che arrivava di farti dire che non eri bravo. Sono cresciute le difficoltà, ti sei messo alla ricerca del colpevole e l'hai trovato in un'ombra. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incassi e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! Non lo sei affatto! Non lo sei! Non lo sei disp₂! Non lo sei! Noi! Non lo sei! Lui.